Sì! E iniziano alla grande gli europei 2021 per la nostra Italia, Italia che nel girone ha becca la Turchia, Svizzera e Galles. Gli europei 2021 iniziano allo Stadio Olimpico di roma finalmente col grande pubblico che è mancato da molti mesi e devo dire una cosa però a tutti gli italiani che vanno allo stadio a guardare l'italia dovete farvi sentire se giochiamo in casa dovete farvi sentire voce uscite la voce perché si sentivano i tifosi turchi ok quindi voce facciamoci sentire dobbiamo caricare i nostri giocatori i giocatori azzurri quindi voce voce comunque parliamo della partita inizia iniziano gli europei 2021 allo stadio olimpico di roma con il pubblico italia turchia finita 3 a 0 che dire una partita bellissima bellissima però il primo tempo un arbitro scandaloso scandaloso ne abbiamo detti di tutti i colori a questo arbitro perché non ha fischiato dei falli a favore dell'italia non ha fischiato i falli di mano in area di rigore dei dei giocatori della turchia quindi i rigori non dati all'italia nel secondo tempo per i rigori non dati all'italia è giusto che ci sia un autogol della turchia con demiral quindi la turchia con l'autogol di demiral manda in vantaggio l'italia per 1 a 0 quindi ci sta a tutti i costi questo autogol mentre il 2 a 0 gol del 2 a 0 lo segna ciro immobile e gol del 3 a 0 che chiude la partita lo segna lorenzo insigne lo segna lorenzo insigne 3 a 0 che dire una partita bellissima 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 giocatori che si vogliono bene un gruppo compatto e che dire ragazzi fateci sognare fateci sognare questa è la prima partita giochiamole tutte così e si andrà fino in fondo fateci sognare ragazzi fateci sognare forza azzurri forza italia azzurri forza azzurri forza azzurri forza azzurri